Benvenuti amici di Nerd Incognito a un nuovo unboxing, oggi per voi abbiamo qui l'Iro Adventure and the Adventure's Journal di Isola Illion Edizioni, lo abbiamo solo tirato fuori dal pacchetto che è ancora in celofanato e ora andiamo a scoprire insieme di che cosa si tratta. Abbiamo già pubblicato un articolo sul nostro sito, quindi chi già l'avrà visto perché è interessato sa che è un giornale, un vero e proprio diario per le vostre campagne, la copertina è rigida, la fattura sembra molto buona, vedete che è lucido, riflette anche un po' la luce, il disegno ovviamente è a tema, non sarebbe potuto essere altrimenti sul retro, non c'è niente, lo andiamo ad aprire, la sensazione è proprio quella di una di queste agende stile, moleschine, veramente ben fatto, devo dire anche l'odore è buono per chi come noi è un po' feticista anche dell'odore, è bello spesso, si tratta di 208 pagine, possiamo togliere intanto il celofan di 208 pagine e andiamo a vederne il contenuto che il tuo viaggio abbia inizio, mi sembra giusto. Qui c'è un po' di spiegazione di quello che è Hero the Adventurous Journal, come utilizzarlo e in pratica diciamo che il giornale si suddivide in due sezioni, una relativa al vostro personaggio e una relativa alla campagna dove potete andare a scrivere le vostre abilità piuttosto che le caratteristiche del vostro personaggio. Iniziamo subito nel più classico delle schede dei giochi di ruolo con nome giocatore e nome personaggio, razza, età, capelli, livello, occhi, classe, altezza, allineamento e poi probabilmente questo è uno spazio dedicato al ritratto del vostro personaggio e qua magari un appunto. Sembra tutto che la qualità della carta è molto particolare, bella spessa, non di quelle che si rompono. Background, appartenenza a gruppi e organizzazioni, competenze, conoscenze. Vedete, laddove ci sono degli spazi in cui ci sono delle definizioni già inserite, per esempio storia e geografia, poi ce ne sono degli altri in cui gli spazi sono liberi per poterlo adattare al gioco di ruolo che state giocando in questo momento. Una cosa particolare di Hero the Adventurous Journal è infatti che è pensato per adattarsi ai diversi tipi di giochi di ruolo a cui state giocando, sia una campagna di Dungeons & Dragons o una campagna a un altro tipo di gioco di ruolo ambientato magari in un altro setting, non per forza fantasy, come per esempio potrebbe essere uno di Urban Heroes della T-Net Games, per farvi un esempio. Il primo che mi viene in mente è con un altro setting. Anche qua, luoghi nativi, luoghi conosciuti, lo spazio per disegnare lo stemma che era incluso anche nelle vecchie schede di Dungeons & Dragons stile anni 90, malattie, vizie, dipendenze, cicatrici, tatuaggi, fobie, nemici nemesi, ama, detesta. E poi qua c'è una sezione, anche qua vedete, molto molto sensibile, lo avvicino un po' di più, in cui andare a inserire le caratteristiche. C'è uno spazio per scrivere il nome della caratteristica e poi uno spazio per contenerne il valore, quindi questo si adatta facilmente alle diverse tipologie di giochi di ruolo, visto che non è preimpostata. Laddove poi una pagina eventualmente non contenesse informazioni rilevanti per voi, la potete usare anche per fare altre cose, per disegnarci sopra, per prenderci sopra altri appunti, questa potrebbe diventare una sorta di checklist con le cose da fare, per esempio, oppure obiettivi di una missione da raggiungere nel caso gli avanzasse qualcosa. Talenti e poteri speciali, qua siamo sempre nelle 20 pagine di sezione dedicate al personaggio e poi per i Magic Users tutta la parte relativa a magie e incantesimi in cui andare a registrare le vostre magie e gli effetti di ogni singolo incantesimo, questo dovrebbe essere abbastanza importante. Qua una descrizione dell'equipaggiamento, addirittura nella parte destra dove c'è questo disegno, potete andare a disegnare addosso al vostro personaggio come vengono rappresentate le diverse tipologie di equipaggiamento, questo fa un po' RPG dei giochi per computer, mentre sulla sinistra c'è la descrizione di quello che indossate ovviamente per tenere traccia anche eventualmente di proprietà magiche degli oggetti che portate indosso. Una sezione più estesa dedicata all'inventario e poi qua delle informazioni relative a famiglie e gregarie, ancora non so se vedete bene, lo avvicino un po', famiglie e gregarie in cui anche qui c'è spazio per disegnare uno schizzo del personaggio a cui siete legati in un qualche modo all'interno della storia e poi c'è lo spazio per inserire il nome eventualmente quella che pensiamo sia una breve descrizione. Dopodiché, intanto ci piace molto la grafica con il segno che sembra che sia stato poggiato un bicchiere sporco di qualcosa qui, e poi c'è la parte dedicata alla campagna, anche qui a parte la grafica è bellissima, ci piacciono molto le illustrazioni, sono veramente ben fatte, la parte dedicata della campagna, che è l'altra raccolta di informazioni principali che ovviamente vi servono, forse è qui successo qualcosa nel corso del viaggio, i guerrieri non sempre sono un po' affidabilissimi, questa pagina sembra un po' rovinata, qui c'è una parte dedicata ai luoghi esplorati, ai personaggi non giocanti incontrati e poi anche qua i dettagli più particolari sulla campagna come i game master, i personaggi, i png incontrati, quindi questa è un diario dedicato a ogni singola sessione all'interno della vostra campagna e questo va avanti così se non ci ricordiamo, se non andiamo errati, per una cinquantina di pagine. Voi ci direte sì va bene ma le pagine sono fisse, nel momento in cui io decido magari di fare più campagne insieme, che cosa me ne faccio di un unico hero di Adventurer's Journal? E qui casca l'asino perché in realtà non si tratta di un singolo set di informazioni ma nelle 208 pagine di hero potrete andare a raccogliere le informazioni relative a tre tipologie di personaggi e tre tipologie di campagne e quindi abbiamo questo set ripetuto per ben tre volte. Alla fine della sezione relativa alla raccolta delle informazioni per la campagna c'è uno spazio per disegnare le mappe dei dungeon, quindi riprendiamo un po' quello che abbiamo visto prima, quindi uno spazio con i quadretti ovviamente per le unità di misura dedicate alle mappe dei dungeon dove potete appunto prendere appunti, un bel po' di pagine perché insomma in dungeon ci si sta spesso e poi informazioni sull'epilogo della campagna quando riuscite ad arrivare alla fine nel destino del vostro eroe e due pagine dedicate a note e poi a sketch e disegni vari. Dopodiché che succede? Come vi dicevamo prima, rinizia e quindi c'è lo spazio nuovamente per andare a registrare le informazioni di un nuovo personaggio con le 20 pagine e poi le 50 pagine relative alla campagna che si ripetono questa volta con delle illustrazioni diverse, anche questo ci fa piacere che non sono state semplicemente replicate le prime illustrazioni, si ripete per una seconda volta e poi a vale di queste per una terza e questo va a comporre tutte le 208 pagine di Hero The Adventurous Journal. Vi dicevamo il giornale, il diario come vogliamo chiamarlo è pubblicato da Isola Illion Edizioni, il prezzo consigliato al pubblico è di 20 euro, lo potete anche andare a cercare su internet sul sito di Isola Illion, tutte le informazioni che trovate sia all'interno di questo articolo che all'interno del nostro articolo precedente in cui presentavamo che cosa è Hero e che dire, è un acquisto che se siete dei giocatori di ruolo va fatto perché vi permette di dire addio alle schede volanti, a fogli, fogliettini in giro e di avere un unico punto di riferimento, quindi voi andrete alle vostre sessioni solo con questo, per cui signori miei, soldi spesi bene, anche la fattura ci sembra ottima, per cui sicuramente è un acquisto quantomeno da provare per capire se è qualcosa che rientra nelle vostre cose. Bene, anche per questa, per questo unboxing è tutto, non ci resta che darvi appuntamento al prossimo video e vi ricordiamo Hero, The Adventurous Journal, edito da Isola Illion Edizioni.